Buonasera amici di Selfie School, la scuola mostra i denti. Oggi cari telespettatori vogliamo parlare di una lingua che dicono morta ma in realtà è molto viva ed è il latino, questo scoglio che tanti studenti incontrano nella scuola. Ci aiuta una docente, una professoressa, la professoressa Giulia Artioli che viene nei nostri studi da Mantua. Buonasera professoressa. Buonasera, buonasera a lei. Giulia Artioli è laureata in filologia moderna presso l'Università del Sacro Cuore con sede a Brescia con una tesi sperimentale su filologia italiana e oggi insegna lettere classiche presso il liceo Virgilio di Mantua. Virgilio a Mantua è proprio di casa. Un'istituzione. Ci dica innanzitutto qual è stata la sua prima esperienza con il latino, il primo incontro con questa lingua. Allora paradossalmente il primissimo incontro che ho avuto con la lingua latina è stato un incontro impattante e non positivo perché nonostante mi sia piaciuta da subito il primo compito in classe è andato malissimo, ho preso un 3 perché l'ho passato a un compagno scrivendolo su un fazzoletto. Studenti, state tranquilli che si può prendere un 3 e diventare anche docenti di latino. Poi non ho mai voluto rivelare per chi fosse questo fazzoletto e l'insegnante mi ha dato 3, però questo non ha smorzato in alcun modo la passione per la lingua anzi, anche il desiderio poi forse di ribalza. Si può dire che oggi lei è appassionata di latino? Assolutamente sì, e della lingua e della letteratura, questo noi possiamo dirlo. Fantastico, al giorno d'oggi sembrerebbe antistorico studiare ancora latino, perché è ancora attuale? Ci sono tante motivazioni in realtà per cui è ancora attuale, innanzitutto noi lo continuiamo a parlare, questa è una sfida che lancio anche a lei. Se io le dicessi che il latino l'abbiamo anche nel carrello, lei a cosa pensa? Al carrello della spesa? Esatto, il latino l'abbiamo anche nel carrello della spesa, quando andiamo a comprare i gelati di qualche marca particolare, che vuol dire le cose fredde. Il latino in realtà noi lo abbiamo nel carrello, lo abbiamo nel quotidiano, lo abbiamo nelle nostre etimologie, ma lo continuiamo anche a parlare perché alcune parole rimangono invariate, quindi insomma è attuale nel nostro linguaggio e poi di riflesso è attuale nel nostro pensiero. Cosa troviamo nel carrello di latino? Perché mi sfugge… Non so se possiamo dirlo, possiamo dirlo, l'algida… Ah, giustamente, è una parola latina, anche se è una marca nota. Che significa le cose fredde, cioè noi lo abbiamo regolarmente nel carrello, anche le creme per il viso, la nivea… Quindi, primo motivo è ancora presente nella nostra lingua, non solo come radice, ma anche come uso comune. Ma anche come uso comune. Penso nella politica, talvolta ogni tanto vengono fuori con delle frasi, anche nel calcio, le frasi in latino. Certo, ma anche proprio dei termini come album, insomma non solo nell'elocuzione ma anche proprio a livello terminologico. Ma cosa serve il latino? Ci aiuta a conoscere meglio il mondo che ci circonda? Allora, questa è una domanda difficile a cui rispondere, perché il mondo che ci circonda è orientato all'utilitarismo, no? Quindi la prima domanda che noi ci facciamo, non solo quando ci approcciamo al latino, ma a qualsiasi cosa è… La scienza, la tecnica… Esatto, a cosa serve? Ora, il latino non serve se andiamo in posta, non serve se andiamo a fare la spesa, non ci dà il resto, non ci aiuta in questo. Però ci rende più avveduti rispetto alla struttura del mondo, ci aiuta a maturare un senso critico, non è solo continuità con il latino, è anche discontinuità con il mondo latino e quindi ci aiuta a capire il mondo di cui siamo figli e di cui magari vogliamo proseguire le tradizioni e quello di cui invece non vogliamo più essere figli. Poi lei è anche insegnante di storia, a certi periodi storici penso che siano incomprensibili senza il latino. Anche in tempi più recenti, insomma, probabilmente il fascismo, ma così come anche in realtà il Medioevo. Cioè se noi anche da un punto di vista linguistico non avessimo studiato il latino, per quanto il latino medievale sia un po' maccheronico e sia rivisitato, ci renderebbe impossibile la comprensione di buona parte della produzione. Quindi da iscrizioni latine dappertutto, davanti alle chiese, nei cimiteri, sui monumenti romani, quindi conoscere anche come funzionava la lingua penso sia interessante anche per gli studenti di oggi. Certo, per loro ecco, quello diventa il riscontro forse più pratico, quello in cui quando andiamo in gita e ci imbattiamo in un epigrafe si tratta di riuscire a tradurla, a decifrarla. Ma ci dica un po', questi studenti di oggi, questi ragazzi social, cellulari in mano, come si approcciano al latino? Dicono uffa, è una cosa che viene dal passato o qualcuno riconosce che è interessato? È difficile farli appassionare perché appunto ha un riscontro meno pratico di altre discipline, però quando si entra nel meccanismo in realtà appassiona, anche perché diventa una sfida con se stessi. In latino è logica, attiva la stessa parte cerebrale che attiva la matematica, per intenderci. Ecco, ci spieghi questo raffronto perché non è immediato. Non è immediato e può anche sembrare paradossale, però in realtà... È latino come la matematica. Sì, attivano la stessa componente di logica e quindi diventa una sfida con se stessi per i ragazzi, anche se qui bisogna sempre portare avanti un lavoro di grammatica massiccio, ecco, italiana. Io ho fatto il liceo scientifico, si parte da rosa a rose, le desinenze, è un po' pedante questo insegnamento, non lo riconosce? Quello è rimasto pressoché invariato perché la grammatica normativa è la nostra base. Però ci sono alcune scuole e tra l'altro anche noi in un paio di sezioni del linguistico proviamo un nuovo metodo, un altro metodo che è il metodo Öhrberg che prevede di insegnare il latino come una lingua viva. Quindi non si parte da rosa a rose, si parte da un dialogo. Come fosse l'inglese, cioè lei parla in latino in classe. Esatto, la finalità di questo percorso è arrivare a parlare in latino, che era un po' l'inglese dei tempi, quindi si tratta di ripristinare un valore che adesso si è perso ma che un tempo era... Hanno fatto anche dei film in latino, penso a Mel Gibson... Ah, certo! Quindi è interessante questo uso moderno, diciamo, di una lingua così antica. In che senso ha influenzato la lingua italiana? Si dice sempre che l'italiano viene dal latino come tante altre lingue, il francese, lo spagnolo. Certo! Cosa è rimasto della struttura della lingua? Allora, noi diciamo tendenzialmente che l'italiano deriva dal latino. In realtà i linguisti, su cui ho studiato l'università, dicono che l'italiano continui il latino, no? Quindi è come se noi continuassimo la lingua di Dante. L'italiano che noi parliamo oggi non è più l'italiano di Dante, però... È la stessa lingua, non è un'altra lingua, è una lingua che si è evoluta sulla base poi, chiaramente, delle esigenze dei parlanti, dei territori. Ma lo possono dire questo anche i francesi? Loro hanno cambiato però in realtà qualcosa, hanno conservato l'etimologia, forse quella deriva dal latino non la continua. Noi italiani abbiamo il vantaggio proprio... Ma ci spieghi perché questa continuità tra il latino, una lingua che se noi sentiamo uno, se io fossi in classe sua e sento lei parlare in latino, non è che capisco immediatamente. Certo! E l'italiano, sembrano molto diverse oggi. Certo, allora è cambiata anche la struttura, noi sappiamo che il latino ad esempio segue le declinazioni, noi è un sistema che abbiamo perso, non abbiamo una lingua che si basa sulle desinenze, ma anche sull'ordine delle parole, sulla sequenza logica e il latino in questo senso noi l'abbiamo perduto. Però proprio da un punto di vista delle radici o della continuità terminologica stessa, a noi garantisce proprio un fil rouge che per altre lingue invece, pur essendo neolatine, non c'è più. Quindi secondo lei in tutte le scuole bisognerebbe insegnare un po' di latino? Perché attualmente si fa solo liceo scientifico, classico. Linguistico e poi scienze umane, ma poi per il resto non si conosce più. Io credo di sì, ci sono anche delle proposte di legge di ripristinarlo alle scuole medie e forse non sarebbe un male, adattandolo chiaramente al bacino d'utenza, non sono più le scuole medie di anni fa, il livello di anni fa, insomma tutto sta cambiando, non necessariamente in peggio. Si sta solo evolvendo la situazione, la società, i ragazzi e quindi forse riadattando all'età stessa la lingua si potrebbe... Riesci a fare giocare i ragazzi con il latino? Sì, noi creiamo dei giochi, allora in questo viene in aiuto la tecnologia, perché ci sono delle piattaforme su cui è possibile creare proprio dei giochi che possono diventare delle ruote della fortuna, che possono diventare i giochi delle tre carte, però insomma per non ripetere come diceva lei, rosa rose in maniera esclusivamente mnemonica si può ricorrere a qualche spediente. Fantastico, quindi i ragazzi possono imparare giocando. Dopo un po' di anni che loro hanno studiato il latino, che idea se ne fanno? Dicono o finalmente è finita o qualcuno se ne innamora, come ha fatto lei nonostante il tre della sua prima esperienza iniziale. Io credo che esistano entrambe le categorie, c'è chi vive come una liberazione, l'abbandono del latino e chi invece se ne innamora e lo coltiva. Penso che però in tutti lasci qualcosa, c'è anche in chi non ne può più, forse inconsapevolmente, forse inconsciamente ha lasciato qualcosa. Mi spiego meglio, quando noi andiamo a tradurre e scegliamo un termine anziché un altro, apprendiamo un meccanismo che poi in maniera inconscia, in maniera implicita, noi ci portiamo avanti per tutta la vita nel momento in cui facciamo una scelta. Quindi è un processo logico che entra dentro di noi, un modo per costruire anche le frasi. Oggi i giovani abituati con gli sms, i messaggini veloci, forse hanno perso questa capacità logica. Sì, poi hanno più che altro avuto degli strumenti che si sono sostituiti a loro, perché abbiamo il correttore che ci corregge la grafia, il suggeritore dei termini, insomma. Quindi è un lavoro, quello sul latino, che se fatto bene ci permette di parallelamente lavorare sull'italiano e arginare poi queste criticità, cioè riuscire a implementare il proprio lessico e forse a accantonare il suggerimento del nostro correttore, a farcela da soli. Professoressa Artioli ci sta incuriosendo molto su questo latino. Scopriamo insieme cosa può esserci utile nella vita di tutti i giorni, anche per noi adulti. Ma lo scopriamo subito dopo la pausa. Ora spazio alla regia. Facile da raggiungere con ampi parcheggi. La più grande struttura odontoiatrica del Veneto, con ben 43 riuniti, 40 operatori medici odontoiatri, 18 igienisti. Ambiente confortevole con ampia disponibilità di orario. Reparto specializzato per l'odontoiatria pediatrica, con intrattenimento per i più piccoli. Disponibilità di una sala operatoria autorizzata, compresa implantologia avanzata con impianti zigomatici e griglie juxta osse. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Ben ritrovati amici di Selfie School, la scuola mostre e denti. Oggi, cari telespettatori, ci stiamo imbattendo nella lingua latina e stiamo scoprendo che non è affatto una lingua morta. È una lingua viva, addirittura in classe giocano, vero, professoressa Artioli? Confermo. Sì, in latino. E anche la tecnologia può venire in aiuto. Diceva che ci sono delle app, perfino i fumetti fanno in latino. Ma oggi giorno i ragazzi quando parlano, parlano a monosillabi, sono abituati dagli sms, da whatsapp, dai messaggini. In latino invece tutte queste belle frasi ciceroniane molto lunghe. Non è un modo di parlare totalmente alieno rispetto a quello che loro vivono oggi. Allora, è un metodo sicuramente differente, anche perché è una lingua scritta, quella che noi conosciamo. Quindi è chiaramente già filtrata, già rielaborata e ordinata, anche perché c'è stato il modo di poterla rivedere. Quindi è una lingua completamente diversa rispetto a quella che possiamo sentire noi, che possiamo sentir parlare noi dai nostri ragazzi. E anche nello scritto loro non concepiscono la scrittura di un manuale, di un libro, concepiscono la scrittura di un messaggino, di un email. Però la lettura di questi confronti permette di costruire in maniera ipotattica, cioè con delle subordinate, in maniera proprio conseguenziale e logica il pensiero. È qualcosa che se non viene fatto, cioè un confronto che se noi perdiamo, progressivamente poi perdiamo anche come capacità nella lingua italiana. Ma poi sono di tecnologia, oggi viviamo in un'epoca di intelligenza artificiale, cioè del GPT. Che non sa il latino, eh? Non sa il latino? No. Ecco, pensavo che invece i suoi studenti utilizzassero questi metodi per avere magari delle belle traduzioni. No, abbiamo fatto un esperimento insieme, perché io non sono in realtà refrattaria o chiusa all'idea dell'intelligenza artificiale, però ho detto proviamo a vedere come è messa l'intelligenza artificiale con il latino. Quindi lei, docente, ha interrogato l'intelligenza artificiale sul latino. Esatto, anche con i ragazzi, complici ragazzi. Non solo non sa tradurlo, o meglio traduce in maniera un po' raffazzonata, ma non sa scriverlo. Quindi se io chiedo di convertire in latino una frase, non sa farlo, perché applica filtri linguistici contemporanei. Quindi conosce tutte le lingue del mondo, ma non in latino. E neanche il greco. E neanche il greco, peccato. Eppure ha prodotto nella storia delle opere letterarie meravigliose. Lei viene da Manto, c'è Virgilio. Qual è l'opera latina che ritiene imprescindibile nella lettura da parte dei suoi studenti e anche per se stessa? Una lettura che mi ha illuminata e che poi probabilmente mi ha anche portato a scegliere lettere classiche è stata la lettura di Seneca, che si fa in quinta. E' un autore, anche un filosofo in realtà, e nel suo testamento spirituale, che sono le lettere a Lucidio, si raccomanda con questo discepolo, dà alcuni precetti e alcuni consigli. E a me è sempre piaciuto molto, perché non restituisce l'idea del filosofo, dell'autore cristallizzato e morto chissà quanti millenni fa, ma restituisce l'idea di un uomo incoerente, che predica il vegetarianesimo, però poi dice mi manca la carne, e questo secondo me deve fare la letteratura, avvicinare all'uomo. Lei è un amante della filosofia stoica. Sì, e di Seneca in particolare. Di Seneca in particolare, sono dei maestri anche per la nostra vita. Io mi ricordo quando facevo il liceo, i docenti ci davano delle traduzioni da fare con opere, sempre a sfondo un po' moralistico, c'era sempre un messaggio buono, si usa ancora a fare così. In realtà sta cambiando anche il sistema della manualistica, forse perché si vuole cercare di avvicinare i ragazzi a questa lingua che già di per sé, come dicevamo in apertura, sfida un mondo che non la rende così appetibile o competitiva. E quindi anche i manuali stanno cambiando e non è più solo la favoletta o il fine moralistico, ma anche appunto un estratto di una lettera in cui si vede l'uomo. Perché a questo dobbiamo pensare, che sono uomini, non autori di millenni fa. E certo, sono persone come noi che hanno riflettuto sulla vita, sulla città, sulla storia. Quali sono i collegamenti tra il latino e le altre materie? È un'isola a parte il suo insegnamento o riesce a creare comunque degli agganci? Diceva prima, fino con la matematica. Esatto, in realtà è una lingua trasversale e anche la scuola sta cercando di andare in questa direzione, cioè non si insegna più una disciplina per compartimenti stagni, ma cerchiamo di collaborare anche fra colleghi e quindi di impostare le cosiddette UDA, quindi delle unità di apprendimento in cui uno stesso argomento viene affrontato in varie materie. Quindi l'amore che noi troviamo nella letteratura latina, lo possiamo poi indagare nella letteratura italiana, francese, inglese, vedere appunto i punti di continuità o di frattura, perché non tutto, come dicevamo prima, è in continuità. Oppure ci sono anche delle attinenze con l'ambito scientifico. Il lessico scientifico è prevalente latino, quindi possiamo fare dei collegamenti anche, esatto, con la biologia, con scienze. Oppure in matematica, perché il criterio logico che noi applichiamo è davvero lo stesso. Mi metto nei panni di un ragazzo che la sta ascoltando, allora frequenta le sue lezioni, tutto bello, è latino, mi piace. Secondo lei, se si ponesse la domanda, come posso io utilizzare oggi il latino? Quali sono i campi di utilizzo della lingua latina per cui vale la pena anche coltivarlo? Allora, innanzitutto la lingua italiana, quindi studiare il latino permette di essere più padroni della lingua che noi abbiamo, abbiamo la fortuna di poter parlare. Quindi dice chi più conosce il latino, più conosce anche l'italiano. Sia come meccanismi, come dicevamo prima, meccanismi logici di organizzazione del pensiero e conseguentemente del discorso, sia proprio come capacità terminologica. La famosa consecuzio temporum, si diceva una volta, per esempio. Esatto, ma anche l'uso dei connettivi, quindi in primo luogo, in secondo luogo, c'è un pensiero strutturato che poi trova un discorso strutturato, ecco, come esito. Quindi in primo luogo io direi la padronanza della lingua italiana. E poi altri riscontri pratici... Citazioni, per esempio. Esatto, possono essere le citazioni che magari, insomma, sono quelle con cui far colpo anche su qualche ragazza, no? Perché è pullula di... Non so se una ragazza si innavori di una ragazza che ha una citazione latina. No, però anche i cioccolatini hanno quelle frasi di Ovidio, insomma, quindi no, scherzi a parte, però insomma, in ambito anche giuridico, dovessi pensare a una scelta, anche in vista futura, il lessico medico è di pertinenza latina o greca, o anche... Quindi anche per conoscere le scienze serve il latino. Sì, è una base per tantissime... è una porta per tante strade, io credo. Lei è un'insegnante giovane, conosce i giovani di oggi, i ragazzi di oggi. Qual è la difficoltà più grande che loro provano nell'approcciare questa lingua morta, ma, insomma, ancora viva? Ancora viva. Io penso che sia proprio la grammatica italiana, questo è il nostro grande scoglio. Perché non conoscono la grammatica italiana, quindi... Arriviamo non padroni della grammatica italiana, ancora, e in prima superiore, intendo. Questo è un deficit della scuola primaria, quindi... Questo è un deficit, forse, in realtà, anche generazionale, cioè senza puntare il dito rispetto a un ciclo di istruzione. È un problema un po' più ampio, cioè anche insegnare grammatica in un mondo che ci vuole, con una grammatica, con una sintassi così spezzettata, è difficile. Quindi forse il primo scoglio proprio è la grammatica italiana, la comprensione a pieno e a fondo della grammatica italiana per poi riuscire a comprendere la grammatica latina. E appunto l'italiano proviene dal latino, quindi se non conosciamo quella italiana difficilmente possiamo anche ricostruire. Esatto. Secondo lei il latino ha futuro in questo mondo? Perché vedo che da un po' di anni il percorso scolastico tenta di mangiare ore, spazi, qualcuno vorrebbe abolirlo del tutto. È difficile potersi pronunciare, però io credo che abbia un futuro e ci sono anche altri paesi che, a differenza del nostro, investono nel latino e quindi forse possono diventare il nostro modello. Noi che siamo però la culla della latinità sarebbe bello che la tenessimo conosciuta. Tutto in Italia dobbiamo coltivare questa lingua perché è la patria del latino che si parlava tra l'altro in tutta Europa, in tutto il mondo allora conosciuto. Esatto. Come dicevamo prima era l'inglese dei tempi e quindi era davvero il veicolo primario di informazioni, di scambi. E quindi io spero che nonostante la sfiducia generale nelle lingue classiche ci sia margine per coltivarlo ancora a lungo. Pensi che anni fa mi è capitato di fare un viaggio in Russia e con un polacco che ho incontrato là in Russia, non sapevamo nessuno dei due, l'inglese, nessun'altra lingua, abbiamo parlato in latino. Per una settimana io ho parlato latino con questa persona che poi siamo rimasti in amicizia. Adesso voglio sentire però il suo latino, latine loque, ci dica una bella frase in latino, una citazione. Potrei salutare in latino ave atque vale dicendo quindi arrivederci e statemi bene. Ci ripete la frase? Ave atque vale. Ave atque vale. Che è proprio una locuzione con cui si concludono le missive, le lettere e ci si saluta e il saluto finale è proprio stammi bene. Ecco questo è il senso. Benissimo, quindi i ragazzi che sono in ascolto e vogliono imparare l'arts amatoria latina possono salutare la loro ragazza dicendo vale atque, no ave atque vale. Perfetto. E così si salutiamo anche voi cari telespettatori, ringraziamo la professoressa Giulia Artioli per questa sua passione per il latino e per averci aperto questo mondo. Speriamo di aver fatto innamorare altre persone a questa lingua che sono le nostre radici e anche possiamo dirlo il nostro presente. Grazie ancora. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a voi.